Non sai dare espressione alla tua voce Non sai come fare ad arricchirla di tu Risulti sempre piatto, non monotono, piatto L'ho detto piatto, no? Risulti sempre piatto, monotono E vorresti invece rinnovare la tua capacità comunicativa? Fai questo esercizio efficacissimo Prendi una frase e ripetila esattamente come faccio io adesso Essere o non essere, questo è il problema 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 essere o non essere ecco questo è un problema essere o non essere questo è il problema essere o non essere questo è il problema essere o non essere questo è il problema essere o non essere questo qui è il problema essere o non essere questo è il problema essere o non essere questo è il problema essere o non essere questo è il problema una che non capisce proprio un c***o e questi sono solo alcuni dei colori che si possono usare a te ne vengono in mente altri? fammelo sapere nei commenti fammelo sapere nei commenti